Io sono allivito nel momento in cui, come stavamo dicendo, una persona uccide un'altra con un'ombrellata in un occhio. Io sono dell'idea, ma questa è una mia idea personale che, come ha detto, che avrei detto... Che si butta la chiave. Io ti metto dentro e butto via la chiave. L'ordinamento non lo prevede, prevede 16 anni? Io ti do 16 anni, non un giorno in meno, ma per rispetto nei confronti della società, perché tu sei una persona pericolosa, perché una persona del genere io avrei paura solamente a incontrarla, ma soprattutto per rispetto nei confronti della famiglia. Ma io penso se mio figlio uccidessero mio figlio in quel modo, una persona che dovesse uccidere mio figlio, io metto nei panni di qualsiasi genitore o di qualsiasi parente che vede ucciso un proprio caro. E dopo 9 anni su 16 questa la vedi in giro, fare le foto su Facebook, farsi bella in vacanza o che cosa. Ma io ti vengo a cercare.